Forse una questione semantica, io vorrei precisare che quando ho detto ho messo in contrasto non salute e sofferenza, se c'è sofferenza c'è anche salute. Io ho detto che introducevamo la nozione di sofferenza urbana per uscire dalla medicina e dal settore sanitario, non dalla salute, nel senso che credo che la salute sia qualche cosa di più complesso e complessivo che la sola medicina e financo il solo settore della sanità. Ma sono d'accordo con te che la salute ha a che fare con i diritti alla salute e che parte dei diritti della salute è affare della medicina e della sanità, ma non solo. Gianni, tu vuoi aggiungere qualcosa e qualcuno che vuole parlare? D'accord. Peut-être que dans la presentazione, d'abord c'est très bien que tu as mis de la conflictualità, la collègue l'a dit, c'est très bien. Mais peut-être que quand je parle de clinique psychosociale, on pense que c'est pour les cliniciens, réservés aux cliniciens, c'est-à-dire les psychiatres, les psychologues, etc. C'est vrai, la clinique c'est d'abord une histoire de clinicien traditionnelle, mais dans le sens où je l'ai utilisé, la clinique pour moi, c'est tous ceux qui sont en face du sujet souffrant, qu'ils soient travailleurs sociaux, maires d'une grande ville, pédagogues, et étant en relation avec ce sujet, ils ne veulent pas qu'ils soient couchés par terre, ils veulent qu'ils soient debout. Et ce que j'ai décrit sur la clinique psychosociale, c'est la clinique psychosociale pour tous ceux qui travaillent avec leurs contemporains, pour qu'ils ne soient pas par terre, mais debout. Et la majorité de ce que j'ai décrit, c'est d'abord à partir de centaines d'observations avec des assistantes sociales, au départ, et ensuite seulement avec les psychiatres, ma propre pratique, etc. Je voulais tout de même dire ça parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une transversalité de la clinique. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société très individualiste. Donc même si le problème est contextuel et politique, il y a des gens en face d'autres gens et il se passe des choses entre eux. Merci. Je crois que c'est d'être bien de créer un minimum de finto ou vero contraste, parce que nous avons permis de nous dire dire mieux, de nous articuler mieux ce que nous voulions dire. Je prends un dernier intervento, parce que ce sont les 5.20, c'est un micro là in fondo, in fondo, in fondo. Ci sono due interventi, c'è anche un intervento di Thomas Emenegger. Quindi Thomas hai un microfono in mano? Allora vai tu e poi Angelo Barbato. Un po' spaventa i scenari descritti da OTA, ma in fondo sono anche scenari vecchi che riprendono e c'è una question che conosciamo, c'è questa storia che tutto ciò che facciamo è costruita in forma di distanza, come una volta in altre forme. Una volta c'erano i manicomi, o ci sono queste forme che comunque costruiscono il rapporto e ciò che facciamo, le culture materiale in forma di distanza. Ed è un tema, anche quello dell'autoesclusione, secondo me è un tema in fondo non nuovo, perché questa storia dell'exit, dell'andarsene, del rassegnarsi, controposto al tema della voice, dell'avere una voce, quella storia introdotta da Hirschman, è qualcosa che ci accompagna da tantissimo tempo. E la cosa che io mi chiedo, pensando anche a delle cose molto semplici, che se io vedo un servizio di danza e cura dove si è in grado di mettere su due fili di pasta con aglio e olio insieme col paziente e mangiarli insieme, è una cosa. Se vedo invece altre realtà, dove per esempio gli psichiatri e gli infermieri si chiudono dentro nelle loro stanze di caffè, dove nessun utente può mai entrare, è in qualche modo la vera socialità e collegialità si svolge ad esclusione. Tutte queste forme in qualche modo le conosciamo bene. E quello che io mi chiedo, come possono in qualche modo le culture materiali, cioè le cose che facciamo, le politiche che abbiamo, confortare l'immaginario, cioè il soggettivo? Come funziona questa dialettica? E devo dire che oggi il pomeriggio è stato fantastico, perché è stato pieno di stimoli molto molto belli e mi sono veramente molto molto divertito. Ma continuo a chiedermi, alla fine, come poi in modo pratico riusciamo a smontare tutto ciò che è costruito in forma di distanza e dove poi alla fine ci avviciniamo a questo tipo di rapporto descritto da Borgia, dove ci avviciniamo alle persone che abbiamo di fronte a noi, ma attraverso quello che facciamo anche con le cose materiali. Il rapporto tra ciò che Ota ha descritto, il rapporto tra contesto e societività, come in qualche modo la societività del desiderio e della cura possa trovare delle forme materiali con le quali queste cose le facciamo anche. Grazie Thomas. Ultimissimo riflessione di Angelo Barbato. Grazie, sono un altro giovane psichiatra milanese, un 4 è detto, non so se 4, 3 o 5, ma insomma la sostanza è quella. Ma io dico che il dibattito mi ha molto interessato e mi ha permesso di capire meglio delle relazioni che forse non avevo apprezzato interamente quando sono state presentate. Io parto da una cosa che mi pare di aver capito di quello che ha detto Tadei Leonardis, ma tu mi correggerai se non ho interpretato correttamente, cioè che un aspetto importante collegato a questa produzione di sofferenza, che è correlato a questa produzione di sofferenza, che si manifesta in forme pervasive di esclusione sociale, come ha detto Rosen, che si moltiplicano e si addizionano e che ha come corollario quello che Jean Furtot ha detto, questa sindrome di autoesclusione sociale, che poi mi pare tra l'altro che per esempio in Giappone ha assunto forme quasi epidemiche, mi pare di ricordare di aver letto che tra i giovani giapponesi ci sono forme estreme di autoesclusione sociale che sono molto diffuse. Tu questo, io mi pare di aver capito da quello che tu hai detto che un aspetto importante di questo è il declino dello spirito pubblico, se ho capito bene, cioè il declino dello spirito pubblico è un fattore di sofferenza e io credo che si possa dire, questo mi ha fatto venire in mente, ecco perché dicevo, mi sono venute in mente delle connessioni che non avevo realizzato quando sono state fatte le presentazioni. Mi sono ricordato per esempio che qualche anno fa è uscito su una rivista non molto attraente per tutti, una rivista di epidemiologia, uno studio di alcuni psicologi e sociologi svedesi che avevano indagato alcuni aspetti di correlazione tra il capitale sociale, indicatori di capitale sociale e alcuni aspetti dell'incidenza dei disturbi mentali e il fattore di rischio più alto per l'incidenza in questo caso dei disturbi affettivi maggiori che loro hanno trovato confrontando alcune contee svedesi, il rischio più elevato era correlato al tasso di votanti alle elezioni amministrative, cioè più basso il tasso, mi è colpito perché siccome noi ora siamo in questo momento a Milano come voi sapete in questa circostanza qui, cioè più basso il tasso di votanti alle elezioni amministrative e non politiche, più alto il rischio di incidenza di disturbi affettivi maggiori. Questo non significa che ci sia una causalità meccanica ovviamente, però allora io penso che si possa dire che il declino dello spirito pubblico è un fattore di rischio per la nostra salute, di tutti noi. Se così è, io credo che questo è un problema che travalica le discipline specialistiche a cui noi apparteniamo, a parte che io sono per motivi particolari assai pessimista sull'evoluzione della disciplina a cui appartengo nel senso di disciplina che promuove la inclusione sociale per una serie di motivi e credo che l'umanesimo radicale dipinto da Borgna sia lontano da quella che è la pratica e l'insegnamento della disciplina. Io credo che questo è un richiamo alla trasversalità, cioè un richiamo al fatto che solo se più attori sociali, quindi anche i tecnici certo, ma in quanto attori sociali diciamo così si confrontano e si mettono assieme, questo problema può essere affrontato perché io dubito fortemente che appunto il solo contributo di un settore, non parliamo della psichiatria ma neanche del settore sanitario da solo, può dare una risposta complessiva a un problema di questo tipo. Non andare a votare è un fattore di rischio, essere candidati come Barbato è un fattore di protezione e noi gli auguriamo di essere eletto.